Cari amiche e cari amici, buongiorno. Oggi desidero provare a rispondere ad una domanda. Ha senso nel 2023 utilizzare un registratore cd e partirò per rispondere appunto a tale interrogativo dal fare di vedere questa splendida macchina che è un Piner PDR 555RV che in questo momento vedete sta lavorando come semplice riproduttore di cd. Questa macchina che nasce nel 1998 ha delle prestazioni di notevole interesse a cominciare dalla risposta in frequenza che da 2 Hz a 20 kHz ad una gamma dinamica di 99 decibel, un rapporto segnale rumore di 113 decibel con una distorsione armonica totale di soli 0,0017%. Tutto questo con un peso di 4,8 kg e che con una lunghezza di 420 mm di 42 cm, una profondità di 38,5 ed un'altezza di 10,5 cm. Ha un'uscita di linea a 2 volt ma ha uscite di entrate analogiche, corsiali e ottiche. Tant'è vero vedete che c'è la possibilità di selezionare il tipo di entrata che voi volete utilizzare per la registrazione e nel momento in cui voi utilizzate l'entrata analogica a questo punto funzionano anche gli indicatori e soprattutto i livelli di registrazione. altrimenti la macchina fa tutto automaticamente. Ha un telecomando a disposizione e come vi dicevo adesso vedete sta andando nel senso che non è collegata a nessuna fonte di amplificazione ma sta riproducendo un cd. Le indicazioni di tempo rimanente, le indicazioni di tempo rimanente totale, le indicazioni di quanti brani ci sono nel cd e quant'è appunto il totale del tempo di riproduzione del cd. Adesso l'ho spento la riproduzione tramite il telecomando. Ma cosa succede quando volete registrare? Punto primo non potete utilizzare i cd dei masterizzatori da computer dovete utilizzare ecco questo tipo come vedete c'è scritto music questi sono della maxwell li trovate ancora in commercio ovviamente nelle grandi multinazionali come amazon e quando li inserite la macchina li esamina dice che è appunto un cdr e poi che è un disco nuovo per cui rimane in attesa di vostre istruzioni che possono essere appunto dobbiamo registrare da una fonte sonora analogica oppure da una fonte coassiale quindi digitale coassiale oppure da una fonte ottica la particolarità del cd che viene registrato se registrato in digitale che non è più ulteriormente registrabile da macchine da macchine esiste quindi un filtro che impedisce la duplicazione digitale di quello appunto che è il messaggio audio che è stato registrato sul sul disco audio tutto questo per dirvi che secondo me ancora oggi soprattutto in mancanza oramai in tanti computer non esiste più neanche l'aspetto del masterizzatore dvd men che meno quello cd e quindi il fatto di avere una macchina di questo genere può assicurare la possibilità di duplicare dei dei segnali musicali ad altissimo livello perché comunque la duplicazione avviene ad una velocità di 1x quindi con la massima possibilità poi di riproduzione perché voi sapete che le difficoltà di riproduzione dei cd nascono quando questi sono poi registrati ad una velocità elevata quindi la velocità di 1x non produce mai problemi di ascolto su qualsiasi strumento poi voi utilizzate per ascoltare e nello stesso tempo vi dà una grandissima qualità se poi non dovesse servire vi assicuro che questo questo registratore anche solamente in ascolto dimostra grandissime doti per cui la mia conclusione è che non è una macchina solamente per audiofili si trovano a dei prezzi abbastanza convenienti il problema è di verificare se il laser è ancora buono e voi ve ne accorgete appunto se dà difficoltà oppure no nella lettura poi dei singoli supporti ecco vedete ho inserito il cd e mi dice quant'è il la durata del cd e adesso col telecomando partiamo dal primo brano che voi non sentirete proprio perché non è collegato a nessun tipo di amplificazione ma posso anche saltare ai brani successivi con il telecomando posso spegnere in parte il display o totalmente e quindi una grande versatilità vi faccio vedere solamente per curiosità la parte posteriore perché anche la parte posteriore ecco con le varie entrate e uscite digitali con la siale e con le analogiche ecco cari amiche cari amici vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro una buona anzi un'ottima giornata e vi ringrazio per avermi seguito